Salve e bentrovati. Alcuni fattori fanno sì che la settimana borsistica venga chiusa all'insegna degli acquisti. Uno di questi è il dato sull'inflazione statunitense che è scesa più del previsto. Un altro aspetto è rappresentato dai conti di LVMH, il collosso francese che è proprietario di tanti importanti marchi di moda, su tutti Louis Vuitton, Tiffany, Dior e Fendi, ma anche di marchi di alcolici, i quali gli Champagne Moet e Chandon e gli Cognac Hennessy. Di questo però parleremo tra poco. Non ultima, a proposito di fattori che hanno incentivato gli acquisti, c'è la rinnovata speranza degli investitori per un eventuale taglio dei tassi in primavera da parte della BCE. Il trend del Fuzzimib è stato ascendente fino alle ore 13.30 circa, quando poi è iniziato questo calo, ore 13.30 in cui appunto sono stati toccati i massimi di giornata. C'è stato poi un recupero sul finale che ha portato l'indice milanese a chiudere con un più 0,73%. Sale anche il DAX ma in misura minore, tanto che nel corso del pomeriggio l'indice si è più volte riavvicinato alla parità. In questo caso la variazione è di più 0,36% con l'indice che è sempre stato sotto quota 17.000. Questa percentuale più 0,36% che abbiamo appena visto per il DAX è in realtà simile a quella che in questo momento viene fatta registrare dal Dow Jones. Il Nasdaq invece, sempre a Wall Street, si sta muovendo poco sopra la parità. Anche Milano, come d'altronde nel resto d'Europa, scattano, come dicevamo in avanti, i titoli del lusso. Moncler realizza un ottimo più 9,64% e Brunello Cucinelli mette a segno un altrettanto buono, più che discreto, più 6,30%. Beneficia di questa ondata di acquisti anche campari, avvantaggiandosi quasi 5,5 punti percentuali. ERA, in scia alla presentazione del nuovo piano industriale avvenuto appunto in settimana, supera il più 4 e riconquista i livelli di metà giugno 2023. Note favorevoli anche per Amplifon, che esce dal trend laterale registrato nelle ultime 6 sedute, superando i 30,60 punti. La maglia nera del Fuzzivib è Monte dei Paschi, meno 3,31. Più staccati comunque ci sono altri titoli bancari, come Banco BPM e Biper, che hanno ribassi frazionali poco sopra al mezzo punto percentuale. All'indomani dell'approvazione dei conti del 2023, STM cede oltre due punti e mezzo. Il titolo risente del tonfo di Intel, che a Wall Street ritraccia sotto al meno 4 in scia a conti deludenti. Leonardo, meno 1,65, prosegue nella sua fase discendente dopo i top del 15 gennaio, in cui appunto il titolo aveva superato i 17,50 euro per azione. Sul Forex, Euro-Dollaro recupera da una prima parte di mattinata negativa e senza mai comunque scendere sotto quota 1,08 e 10, e in questo momento sta facendo segnare un più 0,17% rispetto ai valori di mezzanotte. Leggero progresso per il cross Euro-Sterlina, ma il progresso maggiore tra i cross appunto che riguardano l'euro è messo segno dal cambio sullo Yen, che ora è ampiamente sopra quota 160. Ed ora chiudiamo con l'intervista al trader Filippo Giannini. Ospite delle interviste di Traderlink, Filippo Giannini di tradingfacile.eu, per dare uno sguardo al DAX. Sì, ciao Rossana e bentrovata. Sì, facciamo il punto sul DAX dopo la riunione della BCE di ieri. In generale la settimana è stata fin qui piuttosto positiva per il benchmark tedesco e a meno di grossi scossoni nella sessione orierna chiuderemo la settimana ampliamente in territorio negativo. DAX che è salito appunto nel corso di questa settimana nonostante insomma siano usciti dei dati piuttosto negativi in merito all'andamento dell'economia tedesca sia sul settore manifatture sia sul settore servizi ma dopo le parole di ieri della Lagarde di fatto che nonostante appunto la Lagarde abbia escluso un prossimo taglio dei tassi ad aprile a giudicare anche dalla reazione del mercato obbligazionario di fatto gli operatori stanno scommettendo invece su un prossimo taglio dei tassi da parte della BCE e quindi mercato che è salito appunto sulla scia di questi di questi tagli che il mercato si attende diciamo ecco contrariamente a quello che ha detto Lagarde nonostante insomma ecco l'inflazione stia di fatto scendendo quindi stiamo vedendo adesso il test di livelli importanti per quanto riguarda il DAX quindi mercato che sembra avere tutte le intenzioni di andare a ritestare un livello importante come quota 17.030 e quindi a mio avviso se dovessimo andare sopra questo livello si va dritti a quota 17.131 dove troviamo i massimi fatti dal mercato a inizio anno e dove appunto potrebbero arrivare delle prese di beneficio in generale non mi aspetto dei movimenti diciamo ecco piuttosto significativi a rialzo proprio perché come detto la situazione è piuttosto incerta anche sul fronte della volatilità implicita stiamo vedendo comunque sia una volatilità implicita in leggero aumento quindi un pochino di paura da parte degli operatori continua ad esserci magari ecco mi concentrerei sul fronte opposto perché un eventuale break a ribasso di quota 16.900 punti lo vediamo qui secondo me alimenterebbe un'ulteriore appunto estensione delle vendite e qui però attenzione perché c'è un livello che secondo me va monitorato in ottica di acquisto multiday che è quota 16.780 punti qui se il mercato dovesse andare a ritestare questi livelli secondo me questa potrebbe costituire un'ottima occasione per rientrare al mercato con un rischio più limitato perfetto Filippo ti ringrazio per l'analisi e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta grazie a te Rossana, arrivederci a tutti era l'ultimo contributo per oggi e per questa settimana non mi resta che ringraziarvi e darvi l'appuntamento a lunedì, arrivederci e buon weekend